Ogni giorno è un'impresa, il Tribunale sopporta un carico di lavoro enorme con una pianta organica amministrativa ridotta al minimo, uno squilibrio che non è neanche lontanamente comparabile con gli uffici giudiziari del resto della Toscana. Niente di nuovo nelle parole del Presidente del Tribunale di Prato, Francesco Gratteri, niente di nuovo perché la situazione drammatica degli ultimi tempi è la stessa di oggi. Pochi cancellieri, pochi assistenti, pochi impiegati e come se non fosse già abbastanza il problema dell'organico, si aggiunge quello di un palazzo di giustizia che cade a pezzi e per il quale ogni euro speso per la manutenzione è un euro buttato via perché non si arriva mai alla soluzione. C'è questo e c'è molto altro nella relazione che il Presidente Gratteri ha fatto ieri al Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Firenze, che non ha competenza diretta sulla definizione dei problemi, ma ha potere istruttorio per una verifica da trasmettere al Ministero. Consiglio giudiziario come autorevole cassa di risonanza, dunque. L'audizione, ha spiegato il Presidente, è servita a fare nuovamente il punto su come stiamo. Riconosco che l'assegnazione di quattro nuovi magistrati è uno degli incrementi più importanti a livello nazionale, ma se non ci sono gli amministrativi si va molto poco lontano. Carenze di organico pesanti, quelle che da anni sopportano gli uffici giudiziari, rispetto a una stima del rapporto ottimale per il funzionamento della giustizia, che per l'Europa e per il Ministero si concretizza in almeno quattro amministrativi per ogni magistrato, Prato non arriva a due per ciascun togato. Difficile tirare avanti il lavoro in queste condizioni, dice il Presidente Gratteri. È aumentato in modo considerevole il flusso dei procedimenti che arrivano dalla Procura e noi abbiamo un ufficio del GIP che può contare appena su un funzionario e tre assistenti. So bene che nessuno ha la bacchetta magica, ma qui siamo arrivati al punto che rappresentiamo le problematiche, chiediamo soluzioni e non c'è nessuno che ci dice che non possiamo avere quello che vorremmo. Più semplicemente nessuno ci risponde. E la situazione senza un intervento risolutivo potrebbe anche peggiorare. La Procura è pronta a passare dagli attuali 7 a 8 sostituti, in soldoni una maggiore produzione che però deve passare dall'imbuto del Tribunale. Il Consiglio Giudiziario ha fissato un nuovo appuntamento il 5 novembre, dita incrociate in attesa di buone notizie o almeno di una.